Siamo con Luca Piatto di Conai e chiediamo cosa si può fare per migliorare la qualità della raccolta differenziata laddove non c'è il porta a porta. Il primo passo per migliorare la raccolta differenziata, la qualità della raccolta è senz'altro fare in modo che i cittadini siano correttamente informati su cosa devono conferire in ciascun cassonetto, in ciascun ecopunto, al di là che poi sia una raccolta di prossimità stradale piuttosto che domiciliare. E quindi una corretta informazione sulle caratteristiche dei materiali che vanno inseriti in ogni cassonetto e anche un po' di informazione su che cosa accade poi ai materiali una volta che vengono conferiti in maniera differenziata, far vedere ai cittadini che i materiali vengono effettivamente avviati a riciclo. Io credo che queste siano poi le condizioni che mettono i cittadini a voler partecipare anche con orgoglio alla separazione domestica.